e a Giacomo Sgorbati per forlì appunto l'assenza di Dillier deve far uscire fuori il pallone 4 soli secondi per il tiro però cosa inventa Giacchetti Giacchetti raddoppiato, triplicato quasi trova comunque Reis e poi va lui Giacchetti dall'altra Reis, raddoppiato da Castelli che cerca anche la palla e poi ne esce fuori ha sbagliato il giro di Reis il giro dalla lunga distanza di Reis va da Mancato di Tantoracchi avrebbe fatto questo ripresa lo suo suoto maggiore va ancora a segnarsi Reis in angolo prende immediatamente la tripla chiaramente se gli aiuti di pensieri Giacchetti dentro, Giacchetti per l'appoggio a canestro Giacchetti per l'appoggio a canestro Giacchetti per l'appoggio a canestro Grazie Grazie